Federico Bruno, il primo maggio partirai da Portella della Ginestra in sella al tuo mulo alla volta del Quirinale. La tua idea si chiama Eco Mulo. Di che cosa si tratta e qual è il messaggio che vuoi lanciare? Allora, si tratta di un messaggio eco sostenibile, di fare vedere il nostro operaio che è il mulo. Tutto nacque da una poesia che ho letto su Portella. Un mulo cadde col ventre aperto. Portella delle Ginesti. Prima strage della nostra Repubblica. Allora il mulo è il primo martire della nostra Repubblica. Quello che penso io è che gli operai stanno subendo tante cose, sia dall'articolo 18, da tutto quello che sta succedendo. Il mulo è un simbolo degli operai. È anche una cosa che da bambino mio padre mi comprava i muli, era un grande appassionato di muli. Ora sto facendo questa cosa con Mirko. Adamo, che è il percussionista della piccola orchestra, malarrazza. Quindi tu vuoi sensibilizzare l'opinione pubblica? Sì, voglio sensibilizzare a portare l'Italia ad un modo di vivere più eco sostenibile. Tornare un po' alle origini. Se ognuno di noi torna alle origini, da piantare la pianta di basilico, tu. Da piantare un alberello, l'altra persona. Da fare la differenziata, quella persona. Se ognuno di noi fa una cosa piccola, non essere quei fanatici tipo esagerati che fanno duemila cose eco sostenibili. Se ognuno di noi fa una piccola cosa, possono cambiare le cose. Possono. Questo non è il tuo primo viaggio. L'anno scorso hai già fatto un viaggio. Eco Mulo 2. Il primo circolo musica e cultura fu fatto da Peppino Impastato per dare la musica folk in Sicilia, per rivalutare tante cose. Noi abbiamo rifondato con il mio presidente Salvo Rubolo il nuovo circolo musica e cultura per ridare voce alla musica folk in Sicilia e tutto quello che è rurale, tutto quello che è bello della nostra terra. Da dove nasce questo amore per il mulo? Mio padre, quando era laureando in veterinaria, aveva la follia degli asini e dei muli di salvarli, di comprarli, essendo originario i nostri avi di Palazzo Adriano. Quindi diciamo, le muli erano destinati al macello? Sì, all'epoca hanno dismesso questi animali perché c'è chi comprava la macchina e il trattore. Allora i carretti andavano tagliati a pezzi e venduti nei mercati dei rigattieri e questi animali, giustamente, barbaricamente andavano al macello. Una volta arrivato al Quirinale, cosa chiederai? Ancora molte cose sono sotto via di sviluppo perché sto chiedendo a tanti ragazzi, perché non è una cosa solo mia, è del popolo, è di tutti i ragazzi, sto chiedendo tante cose da chiedere e metterò insieme un pacchetto per tutto quello che devo chiedere, principalmente no TAV che è una cosa su cui io ottengo. non pensare minimamente a toccare l'articolo 18, che questo è un altro punto. L'ecosostenibilità è una cosa che mi sta molto a cuore, è la fabbrica dei cani di Crinil in Italia che fanno i beagle per la vivisezione, che è una multinazionale americana, tenuti in un modo barbara e poi impacchettati in tutto il mondo. L'Italia, essendo un paese che si reputa molto animalista, dovrebbe mettere un fermo a questa barbaria. Un'altra cosa sulla quale tu porrai l'attenzione sono le vecchie traziere. Le regge traziere, sì. Io cercherò, usando due libri, Ippovie di Sicilia e Ippovie d'Italia, di trovare più regge traziere possibile per poter fare i vecchi percorsi che si facevano una volta. Come si chiama il mulo con il quale partirai quest'anno? Si chiamano Giovanni e Paolo, due servi dello Stato. In onore, ovviamente. Certamente. Partirai da solo o sarai in compagnia? No, con Mirko Adamo, il percussionista della piccola orchestra Malarrazza. La tua, diciamo, come dire, idea ha attratto molti media, ti stanno seguendo in molti. Secondo te da dove viene questa curiosità? È semplice curiosità o tu hai intercettato un bisogno? Un mulo, un mulo, l'operaio. Se noi guardiamo attorno a noi, tutto è stato fatto con i muli. Perché il cavallo era troppo energico, l'asino era troppo lento, il mulo era l'operaio che ha dato il sangue per costruire questa terra. Il mulo è il vero simbolo dell'operaio. Un animale docile, bellissimo, che può lavorare tutto il giorno, coricare, l'indomani mattina si sveglia e riparte tranquillamente. Qualcuno ti ha definito un moderno Don Quixote. Sì. Tu cosa ne pensi? Effettivamente mi sento un moderno Don Quixote. Abbiamo le pale eoliche e non voglio lottare contro le pale eoliche, sono per questa fonte di energia. Però mi vedo molto come un Don Quixote.